Non so se sono io che sto bene o se sono io che sto male. Non voglio andare su questa questione. A me non mi piace la prostituzione intellettuale. Non mi piace. Mi piace l'onestà intellettuale. Dopo, non lo so, dipende dal vostro giudizio. Però io, uguale a me stesso. Mi sembra che in questo momento, negli ultimi giorni, grandissima manipolazione intellettuale. Ma grandissima. Grandissima. Grandissima manipolazione intellettuale. Grandissimo lavoro organizzato di cambiare, di manipolare l'opinione pubblica. E questo, secondo me, è un lavoro fantastico. Di un mondo che non è il mio. Sarà il mio fino al giorno che io lavoro nel calcio. Ma veramente non è il mio mondo. Il mio mondo non è questo. Però, con grandissimo successo. Perché, negli ultimi due giorni, non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori. con tanti giocatori che io volevo avere con me e che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli e che con giocatori, con tradizione, con cultura vincente, con tutto che una squadra bisogna per vincere titoli. Non si è parlato di una Juve che ha vinto tanti punti, ma tanti punti con errori arbitrali. Quando si dice che Ranieri e Spalletti sono al fianco uno dell'altro, io sono al fianco di Zenga, di Prandelli e di Del Neri. Perché Zenga ha perso tre punti con la Juve, Del Neri ha perso tre punti con la Juve, Prandelli ha perso tre punti con la Juve e sono anche al fianco di Marino e anche al fianco di Novellino che lo prossimo fine settimana è migliore di giocare. Io se sono Novellino e Marino in questo momento è meglio di giocare. Gioca con la seconda squadra perché chissà qualche cartellino, giocatore stanco, giocatore infortunato e è meglio di giocare. Gioca con la primavera, Turino e Di Nesti, gioco con la primavera. E chissà anche noi, è meglio di giocare domani? È meglio di giocare a fine settimana perché sta per arrivare il giorno dello scandalo perché quando si parla di questo modo del rigore di Balotelli e della partita con la Roma questo è manipolazione intellettuale e è un gioco che io non voglio giocare.